Allora, voglio un po' di canola, un po' di canola Ha basato, guarda il display Il display ha basato Venga, un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Inizio Allora ragazzi, vi raccomando con le luci rosse accese vi dovete fermare, non speggiate e infizia, quando si spettano potete andare, niente a vostro spazio, se il razzardo non si scende, accelate da dentro e frena a strisca. Allora, sei paura, non sembra di fare, non sembra di fare, non sembra di fare, non sembra di fare. Noi! 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 Nooo! Nooo! Ah! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.